Grazie a tutti Questa è la tutta vita in Palermo, non si calma, non mi muore. Questo è chiamato il professore. Gravato io, questo è la domanda. Il nostro professore, il nostro professore. Qua non è? Ci sentite. Vate a fare un po' e gli ero. C'è sangue il pasteccio. Il zio, il mio, il zio, fosse un seguito. Era buono. Dice, come? Vate a fumare il pasteccio, il suo sangue. Non c'è un po' e gli ero. Non c'è un po' e gli ero. Non c'è un po' e gli ero. Ora ci sentite voi. Ma che facciamo? Facciamo un po' e gli scavallare. Se dopo allora ci sentite. A me non mi interessa cosa portiamo. Perché? Perché? Perché trova il testato. Si, si, si. Questo. Questo è un po' e gli ero. E' un po' e gli ero. E' un po' e gli ero. Ma ci sentitevi. Ma ci sentitevi? E' un po' e gli ero. E tu mio. E' un po' e gli ero. E' un po' e gli ero. Uno li mette a stampo con giacca e cravatta, uno non lo conora, uno chiede che a picciolito ne aveva toccato, uno chiede che a doga c'è Mascafeo, uno chiede da rispetto, uno chiede da mettere la pagina, però se uno sbaglia, sbaglia. Allora, in quanto sia subito, ho dato con tutto.